Bene, siamo pronti allora per iniziare a costruire il primo modello di machine learning. Il primo step è ovviamente quello di procurarsi gli strumenti necessari. Nel nostro caso gli strumenti sono il linguaggio di programmazione R e l'ambiente RStudio. Qui abbiamo aperto il sito di internet del progetto R, che è appunto www.r-project.org. Per installarlo si va nella sezione di sinistra, dove c'è scritto download e sotto c'è il link. Cliccando lì si apre una pagina. Passiamo adesso alla pagina di RStudio, www.rstudio.com. E da qui possiamo scaricare RStudio. E quindi clicchiamo su download RStudio. RStudio ha diverse... Cliccando dunque su RStudio si aprirà l'interfaccia che utilizzeremo per programmare in R. Allora, l'interfaccia... Perfetto, abbiamo dunque finito. L'obiettivo è installare R ed RStudio. Ne abbiamo installati entrambi e abbiamo verificato che funzionano. Abbiamo dunque gli strumenti che ci servono per realizzare dei modelli di machine learning. Il prossimo step riguarda i dati e lo vedremo nella prossima lezione.